nel boccale del bimbi ho inserito 90 grammi di zucchero azionate 20 secondi velocità 5 aggiungete 150 grammi di strutto o altrimenti utilizzerete io sto utilizzando anche un po di margarina qui a catania utilizziamo strutto anche per il biscotto azionate il bimbi 20 secondi velocità 5 aggiungete un uovo e un cucchiaio colmo di pasta pura di pistacchio azionate il bimbi 20 secondi velocità 4 aggiungete 300 grammi di farina doppio zero e mezza bustina di lievito per dolci azionate il bimbi 40 secondi velocità 4 otterrete un composto verde mettete in frigo per un'oretta riprendete l'impasto dal frigo quindi create delle palline grandi quanto a una noce così passate le vostre noci di pasta frolla nello zucchero semolato e successivamente nello zucchero a velo così adagiate su una teglia rivestita da carta forno schiacciate leggermente infornate a 180 gradi statico per 12 minuti